Qualche giorno fa è partita una raccolta di firme tra gli agricoltori del territorio ionico tarantino per chiedere interventi urgenti di sistemazione della viabilità interna, gravemente compromessa dalle ripetute alluvioni dei mesi scorsi. Sono già un migliaio i firmatari ma intanto qualcosa si muove e di queste ore un incontro informale tra la direzione del consorzio di bonifica Stornare e Tara, i sindaci dei comuni interessati, Castellaneta e Palagianello in particolare e il rappresentante del tavolo verde per gli agricoltori. Già effettuato un primissimo sopralluogo sulla provinciale 14 tranciata di netto dalla furia dell'acqua. È evidente che per operare oltre è necessario l'intervento di tutte le parti. Sicché dall'incontro di queste ore è scaturita la decisione che sarà il sindaco di Castellaneta a convocare subito anche la provincia, l'autorità di Bacino e quella per la tutela del suolo al fine di decidere subito i primi interventi da attivare con procedura semplificata e straordinaria. Ascoltiamo Giovanni Gugliotti, sindaco di Castellaneta. Cercheremo di fare un'azione sinergica per tutto il territorio perché noi abbiamo necessità di una soluzione per questo problema. Non possiamo più rimanere impotenti rispetto alle richieste giornaliere di decine di agricoltori con il rischio che si aggravi ulteriormente la situazione e con il rischio di ritrovarci nuovo con la 106 sotto acqua, una cosa che non è più accettabile. Grazie. Grazie.